Il problema più delicato nella gestione dei migranti rimane quello dei rispingimenti, specie quello dei cittadini stranieri non provenienti da zone di guerra o di emergenza umanitaria, come i 266 marocchini che lo scorso 30 marzo ricevettero il foglio di via dal questore di Taranto. Sono 20-30 paesi e obiettivamente la maggior parte di questi non sono nelle condizioni di un conflitto, di una guerra, di poter richiedere lo status di rifugiato politico. Quindi è evidente che queste persone che provengono da quei paesi devono essere aiutate e non può essere l'Italia da solo. Gli scafisti e le persone che hanno costretto queste persone poi in condizioni che è inutile tornare, hanno raccontato loro che se loro rivelavano sostanzialmente che avevano dei familiari, dei parenti, o che se facevano la richiesta di asilo, non sarebbero mai potuti andare via dall'Italia. Quindi negando il fenomeno che appunto due minuti prima abbiamo detto, cioè quello della ricollocazione negli altri paesi europei. Quindi, e molti di questi arrivano nel nostro paese, inizialmente negavano la disponibilità a dare le impronte, a fare il riconoscimento alla fotosegnalazione, perché gli era stato detto che non farlo quando arrivi in Italia, perché altrimenti rimane in Italia. Nella conferenza stampa in prefettura della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni migratori, il presidente Federico Gelli infatti si esprime così, dopo aver relazionato sulla visita all'hot spot di Taranto, uno dei sette punti caldi italiani dove gli immigrati dovrebbero sostare per un massimo di 72 ore, giusto il tempo di espletare le pratiche per l'identificazione. È la prima tappa della Commissione che sta indagando su sette filoni di inchiesta, l'assistenza sanitaria, i minori non accompagnati, la gestione economica dei centri di accoglienza, i centri di identificazione ed espulsione, il trattamento dei migranti all'interno delle strutture, il sistema di identificazione ed espulsione e le attività di indagine della magistratura con i capitoli ancora caldi di Mafia Capitale e del Cara di Mineo. Prima dell'estate, sul lavoro ispettivo della Commissione, sarà realizzata una relazione puntuale che sarà presentata poi al Governo e al Parlamento. Ma com'è la situazione a Taranto? Prima di tutto, il tema sicurezza, connesso all'allarme terrorismo lanciato proprio nei giorni scorsi da Bari. Il nostro sistema di intelligence è molto efficiente ed è uno dei motivi per il quale, credo, sono stati arrestati anche recentemente dei soggetti che sono stati in qualche modo sospettati di far parte di una cellula terroristica. Visitando il vostro hotspot non ho avuto l'impressione che lì dentro ci fossero dei sedicenti terroristi pronti a fare attentati. Molti di loro ci hanno detto che vogliono ringraziare l'Italia per quello che stanno facendo e vogliono sentirsi utili perché vogliono ringraziarla per l'accoglienza. Taranto si mostra città ospitale, commenta ancora il Presidente della Commissione d'Inchiesta e la gestione dell'hotspot al porto di Taranto, malgrado la collocazione non ottimale, risponde ai requisiti disposti dall'Unione Europea. Resta invece alta l'attenzione sull'intera filiera che deve funzionare. Dobbiamo ringraziare la comunità di Taranto, la città di Taranto, ringrazio il suo sindaco per la disponibilità, ringrazio le forze dell'ordine e il prefetto per aver approntato in pochissimo tempo un hotspot che a mio avviso sarà fondamentale insieme agli altri per gestire il fenomeno dei flussi migratori che avremo anche nei prossimi mesi. Altro tema delicato è quello dell'illegalità di fronte ad un flusso migratorio epocale che inevitabilmente nel nostro Paese attrae gli appetiti della malavita organizzata interessata agli appalti e alla gestione dell'emergenza. Le nostre direzioni distrittuali antimafia stanno lavorando su questo proprio perché la criminalità organizzata, sappiamo bene, può utilizzare anche queste situazioni di drammaticità e di condizioni veramente drammatiche di queste persone.